Stefano Garzelli è stato il primo a vincere questo trofeo senza fine nel 2000, è sempre bello parlare di Giro d'Italia, parlare di ciclismo, siamo a Pescara che vivrà giorni importanti da questo punto di vista. Beh sì, chiaramente, innanzitutto sono sempre un orgoglio per me avere il primo trofeo senza fine del Giro del 2000, quindi a parte che reputo il trofeo il più bello del mondo per qualsiasi evento sportivo. Pescara sì, tanti ricordi, tante presenze, c'è questa tappa pescaragliesi, difficile anche da gestire per i big, i contrabocchetti, poi comunque il giorno prima si arriva ad una tappa difficile, quella del block house, una tappa dura dove sarà il primo spartiacque per la classifica, sarà una tappa, quindi sicuramente qui in Abruzzo due tappe veramente molto molto interessanti. Abruzzo, terra di ciclismo, hai ricordato il block house, la tappa di Pescara, c'è grande passione per le due ruote in questa regione? Sì, sì, chiaramente, essendo stato diversi anni in una squadra abruzzese conosco molto bene la passione, il territorio che porta anche a poter fare dei giri fantastici con salite uniche e quindi posso dire che la passione, poi in questi ultimi anni sta crescendo in modo esponenziale, quindi il ciclismo deve anche sfruttare questa grandissima passione che continua da sempre per poter fomentare ancora di più, quindi penso che anche per l'Abruzzo, per il Pescara avere una tappa del Giro d'Italia è sempre, è una festa, perché il Giro d'Italia è una festa e in più c'è anche un grandissimo evento sportivo. Una festa e il Giro d'Italia resta l'appuntamento più importante in ambito sportivo nel nostro paese? Io penso di sì, io dico sempre, io ho corso 18 giri d'Italia, in questi ultimi anni con la Rai ne ho fatti altri 9, quindi questo dovrebbe essere il mio 27esimo Giro d'Italia e sulle strade del Giro, anche chi non è appassionato di ciclismo è lì alla partenza o all'arrivo o lungo tutti i chilometri del Giro, quindi per me è un qualcosa di unico, quando correvo ti veniva la pelle d'oca solo nel stare lì pedalando, quindi posso dire che i corridori sono dei privilegiati della vita perché hanno la fortuna di poter essere i protagonisti del Giro d'Italia di questa grande festa e poter anche magari qualcuno essere là in maglia rosa nell'ultima tappa con questo trofeo senza fine.